Bene, ed è giunto il momento di dare la linea alla nostra inviata speciale del sabato di Just Today, Suor Maria Vittoria. Buongiorno, buongiorno Toni. Ecco, oggi andiamo a conoscere l'ordine delle Suore Francescane Immacolatine. Siamo di fronte alla casa Pacebene con Suor Trisilda. Buongiorno. Buongiorno, benvenuta a Pacebene. Grazie, Pacebene. Ecco, forse ci spostiamo adesso a casa vostra, così facciamo qualche domanda al riguardo del vostro istituto e di quello che siete qua. Cosa fate per noi, per questo popolo di San Giovanni Rotondo? Bene, bene. Apri la porta, apri la porta. In realtà speciale del sabato di Just Today, che oggi intervisterà la madre superiora delle Suore Francescane Immacolatine, per cui andiamo a scoprire quest'altro ordine di Suore Consacrata. Sì, grazie, eccoci qua. Sor Trisilda, ecco, se ci puoi raccontare a me, perché non conosco il vostro ordine bene, mi fa molto piacere di conoscervi meglio e anche specialmente i nostri telespettatori che adesso ci guardano. E anche loro sono sicuramente curiosi di chi siete. Allora, se mi puoi dire in primo piano, come è nato il vostro ordine? Chi erano i fondatori? Noi siamo Suore Francescane Immacolatine e siamo state fondate nel 1881, 8 dicembre, da padre Ludovico Cernese, un padre cappuccino. Grazie anche all'ispirazione che lui ha avuto dalla beata Teresa Manganiello. Molti di noi abbiamo conosciuto e nel 2010 è stata beatificata. Quindi grazie anche alla spiritualità che lei ci ha trasmesso e siamo state fondate come Francescane Immacolatine. Noi abbiamo sia il carisma francescana che quella mariana. Il nostro carisma principale è quello di riparare i peccati che si commettono nel mondo, specialmente quelli dello smodato sensualismo, che più che mai oggi è quello di attuale per il mondo che ci troviamo davanti. Ecco, mi puoi dire chi era Teresa? Perché so che Teresa Manganiello era una donna... Era una donna analfabetta che grazie, come dicevo prima, grazie anche alla sua spiritualità, lei frequentava la chiesa di Sant'Egidio a Montefusco, dove padre Ludovico era l'assistente spirituale del terzo ordine. Lei tutte le mattine recava in quella chiesa a pregare e da questa ispirazione, vedendo a lei, lui è stato ispirato per fondare la nostra congregazione. Che bello però! Una donna quindi analfabetta. Molto semplice, analfabetta. Alle 4 di mattina si alzava, faceva i servizi di casa, poi il suo primo pensiero era quello di andare nella chiesa, servire il Signore, era la vantaglia del Signore, così si preferiva di chiamare. Quindi, il Signore sempre costruisce le grandi opere sui suoi piccoli, no? Ecco qua. Ma com'è che voi vi trovate qui a San Giovanni Rotondo? Com'è questa storia, se ci puoi dire un attimino? Noi siamo più che contenti di essere qui a San Giovanni Rotondo, grazie a Padre Pio, perché nel 1957, 22 luglio, Padre Carmelo da Sessano si recqua a Pietro De Fusi a nome di Padre Pio. Carmelo era il superiore in quell'epoca qui a San Giovanni Rotondo. Si recqua dalla Madre Generale, Madre Teresa Agnere, e chiede di venire qui a San Giovanni Rotondo per aprire una nuova cassa, perché Padre Pio voleva che venisse le suore per raccogliere i bimbi che erano di strada, dare un'educazione morale e religiosa. però Madre Generale disse a Padre Pio che non aveva questa possibilità di aprire una nuova cassa e lui rispose, le suore verranno qui all'istituto, aprirà una nuova cassa qui a San Giovanni Rotondo, i bambini di strada si salveranno. Quindi il 7 novembre dello stesso anno, la Madre Generale, Madre Teresa Agnere, con Madre Clara Marino, che era la segretaria generale, vennero qui a San Giovanni Rotondo, andarono da Padre Pio a chiedere la benedizione e lui disse, finalmente ecco qui le suore, rimanete e consolidatevi. E lui ha dato questa benedizione e noi oggi continuiamo questa missione attraverso l'educazione dei bambini. È bello, perché veramente mi commuove quello che stai dicendo, perché vedi Padre Pio ci pensava a tutto, no? Ci ha pensato di coloro che venivano a San Giovanni Rotondo, coloro che non sapevano dove poggiare il capo, quindi ha chiamato anche gli istituti religiosi per fondare, per costruire dei alberghi, ma anche e soprattutto le suore per educare, per raccogliere coloro che sono i più piccoli, indifessi, quindi è bello. Quindi avete avuto questa grande missione dell'educazione, quindi del miglioramento della società, diciamo così. è bello pensare a questo e vedere anche la figura di Padre Pio in questa ottica, che non pensava solo alle anime che venivano, ma anche a questo popolo. La prima pietra di questa cassa è stata benedetta proprio da Padre Pio. Quindi c'è questa protezione, diciamo, per sempre. Voi avete anche qui l'asilo, avete quante sezioni avete qua? Noi abbiamo quattro sezioni, più quest'anno anche un micronido con 20 bambini. Che bello, quindi tanti bambini che vengono qua e quindi tante famiglie anche che chiedono a voi. Anche quelle disagiate, i bambini abbiamo, chi ha la possibilità, chi non ha la possibilità. Però noi come carisma, come apostolato, quello principale proprio dell'educazione, perché il nostro fondatore, insieme alla Beata Teresa, dice la donna beneducata è Angelo di Pace in famiglia e nella società. Quindi noi portiamo veramente nel cuore questa educazione ai fanciulli perché dai fanciulli che parte la nuova società. Quindi portiamo avanti veramente con amore e dedicazione. Sì, ma lo sappiamo perché siete famose qua a San Giovanni Rotondo per questo, no? È bello. Comunque, Sor Trosilda, io vorrei chiederti un'altra cosa così riguardante a te. Come hai conosciuto questo istituto? Che cosa ti ha spinto per essere suora, membro vivo in questo istituto proprio? Bene. Io, a partire dalla mia vocazione, in breve parole, no? Io ho anche mia sorella qui nel nostro istituto, Sorra Francescana Immaculatina, che lei è entrata un anno più di me. Noi, Sorra Francescana Immaculatina, abbiamo una missione in India. Quando ero bambina non avevo tanto desiderio, non esprimevo mai che dovevo entrare in convento, farmi suora. Però, grazie alle suore che stavano in India, mia sorella, anche una suora Francescana Immaculatina, qualche anno prima di me è entrata, già era entrata in convento. Quando ho fatto l'esame di maturità, i miei genitori mi hanno chiesto cosa vuoi fare nel futuro? E io ho risposto subito, all'improvviso, diciamo, che voglio farmi suora. Il Signore mi ha messo questa pallina in testa per dire, no? Che dicendo, non avevo un'altra scelta, anche se mi avevano offerto tante altre strade. L'unica mia destinazione era entrare in convento, diventare farmi suora. Allora mi chieste, dove vuoi entrare? L'unica congregazione che conoscevo era delle sore francescane immaculatine, perché c'era mia sorella. Poi grazie anche a mio zio, un sacerdote cappuccino, che ora sta in India. Conoscevo un po' di San Francesco. Ecco, questo mi ha attirato forse ancora di più. Da parte dei miei genitori non ci sono stati degli ostacoli per entrare. Loro mi hanno lasciato rotta e libera, dicendo, la vita tua devi scegliere tu. Io ringrazio molto mia madre, perché quando ho dovuto fare questa scelta, avendo già una sorella mia in convento, per me è stato un po' difficile, pure per mia famiglia, però grazie a mia mamma, la fede di mia mamma, lei mi ha detto, i figli miei sono dono di Dio. Se il Signore che vi chiama, noi non saremo mai un ostacolo per la vostra scelta, per la vostra strada. Quindi subito, senza fare, come dicono i ragazzi di oggi, no? Voglio fare un campestivo, voglio fare un'esperienza, per capire se questa è la volontà di Dio per me, oppure devo cambiare la strada. Per me, in quell'attimo, lo Spirito Santo mi ha illuminato, dicendo, no, questa è la tua strada, non c'è nessun dubbio, entra. Questo richiamo interiore mi ha spinto subito, ho detto, no, non ho bisogno di nessuna esperienza, perché la strada mia, questo voglio scegliere. Lo portavi già nel cuore. Lo portavo già nel cuore, però non avevo mai espresso con nessuno, anche se i miei mi chiedevano, cosa vuoi fare? Io non rispondevo mai, che voglio entrare in convento, ho una suora, anche zia, di madre Teresa, ora sta in cielo, lei mi pure chiedeva spesso, tu da grande cosa vuoi fare? Nessuna risposta, non davo mai una risposta, però quando è arrivato il momento giusto, ho saputo dare, ringrazio il Signore per quella fede, per mia mamma che mi ha inculcato, quella fede in me. Bello, grazie, grazie Sottosilda, e grazie veramente. Grazie a te, grazie. È stato un piacere conoscerti. Grazie, pace bene. Pace bene, allora, pace bene a tutti, restituiamo la linea a Toni, grazie, grazie ancora, un saluto a tutti. Siamo noi che ringraziamo te, Suor Maria Vittoria, per averci fatto conoscere quest'altra bellissima storia dell'Ordine delle Suore Francescane Immacolatine, attraverso le parole e l'esperienza di Suor Trisilda. Abbiamo ancora qualche minuto, prima di fermarci un attimo, lo utilizziamo per ritornare a voi, ai vostri scatti, che ci state inviando, come al solito, molto numerosi al 331-737-8033. Ci giungono da tutt'Italia, quella, la prima foto che vedo sul mio dispositivo, è quella proprio della Madonna di Lourdes, ce la manda Antonella da Chiaramonte-Gulfi, siamo in provincia di Ragusa, grazie Antonella. E poi saluto Maria, che ci invia una bellissima foto, con un bellissimo scorcio sul mare, siamo a Punta Secca, e il luogo da cui la foto è stata scattata è la casa di Montalbano, divenuta celebre in seguito al telefilm, che tutti conosciamo, che prende spunto dai libri del celebre scrittore siciliano. Punta Secca, frazione Marinara di Santa Croce, Camerina, anche in questo caso, siamo a pochi passi da Ragusa, lo scrittore siciliano Arcinoto, e il compianto Camilleri. L'ultima foto che condivido prima di lanciare la pubblicità, ci riporta in Salento, da dove Monica, da Martano in particolare, ci manda questo scatto sulla Chiesa Maria Santissima del Rosario. Grazie, grazie Monica, grazie a tutti quanti voi, che ci state facendo dono dei vostri scatti, per arricchire questa bella mattinata insieme. Noi ci fermiamo soltanto per qualche istante, poi ritorniamo in compagnia di Fra Rinaldo Totaro, il guardiano del nostro convento, per andare a vedere che cosa ha combinato questa settimana con Fra Carmi.